Io non so proprio come tu faccia Sara, la fatica di mandare avanti un'attività dovendo crescere un delinquente come un adolescente, un adolescente come Jim. Come faccia? Ormai sono arrivata al limite, da quando suo padre si è andato, Jim non si è più ripreso. E tu sai quanto è in campo, si è costruito il primo surf solare a 8 anni. Eppure va male a scuola, si caccia costantemente nei guai e quando gli parlo mi sembra di avere davanti un estraneo, io non lo so Adelbert, ho provato tutto il possibile. Ehi signore, va tutto bene lì dentro? Sta arrivando, lo senti anche tu? Con quei suoi incranaggi che scattano e stridano come se fosse il diavolo in persona? Dovete aver battuto forte la testa, vero? Qual è il mio forciere? Quel forfante di un cyborg con la sua banda di tagliagole? Ma dovranno strapparlo alle dita del vecchio, belli bones, irrigidite dalla morte se lo vogliono prima di... Coraggio, appoggiatevi la testa, così. Sei un bravo... La mamma sarà contenta. Grazie di avermi ascoltato, Adelbert Mi fa bene Andrà tutto a posto, Sara Vedrai Continuo a sognare di aprire un giorno quella porta e di vederlo lì come era una volta Un bambino sorridente e felice come un animaletto in braccio che mi supplicava di poter tenere C'è l'isplena di oddio in segretà Ma è ferito, è grave Il mio forziere Ragazzo Lui arriverà presto Non devi fargli trovare questo Chi sta arrivando? Il cyborg Guardati dal cyborg Presto, dobbiamo andarcene Direi che tu guardo con G in questa volta Ferma, non ti muovi Dove? Qui, assoluto Non ti preoccupare Sono un esperto di leggere la fisica Conto fino a tre Chi sono tre? Guardati Guardati, Lai, guardati Brava, brava Guardati Vai Ya 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 Grazie a tutti.